Un paese che ha passato 20 milioni di sentadini senza niente nella struttura per examinare e curare i mali di care. Questo era al Zimbabwe fino a qui per i 17 anni, in cui il Lifeline Dolomitas, insieme a Carlo Spagnoli, si intrecasse il primo reparto di cardiologia dell'ospedale dei Cinoi, peccanorte della capitale Arare. Una struttura pubblica che da adesso non la potrà sempre valere dalla miglior tecnologia del champ della diagnostica, ma in c'è dell'esperienza di reparto dei Trent e Rorei, da due strutture trentine che si accruziano di formare un medico e due infermieri, Trast, Ellen e Miria, che sta a specializzare per tre mesi a Trent e Rorei e che adesso gestisce nel fare parte dell'ospedale regionale del Cinoi. Innaudata a capi ciasse temenaz, la neva cardiologia l'ha scomenzato subito all'Ureri. Già in atta dell'inaudazione ufficiale, appena mai che Roberto Bonmassari e Prisca Zeni, primaria e dottora di cardiologia Trent, e l'infermiera specializzata Roberta Iori, gli attaccò a mettere a girare la macchina le ruote e i prumas pazienti. Filippo, di 13 anni, è stata la pruma che ha potuto sempre valere dalla cardiologia. Nel servizio dei bambini, del buon di valuta nel paese o là che invece per se far curare l'ospedale deve portare la medicina sd'accesa. Così adesso invece Filippo la potrà se curare il cuore e vivere. Per vedere questa navezza che era da ITE, che si dice, che anche il dottor Bonmassari, la dottoressa Prisca Zeni e l'infermiera da Trent, la Roberta Iori, che stabilizzano che era una grave situazione, dopo tre dì, la stessa è già molto migliore. Dopo io vedo gente con che passione che i cardiologi vengono e si mettono alla letta per curare i mali. All'innaudazione, a pede a Carlo Spagnoli, Claudio Merighi, Venceslao Mia Maiaro, amministrator medico regionale e Collette Mia Uire, direttore della struttura, la Tautpert, il ministro per la questione regionale del Zimbabwe, Faber Cidarichire, che ringrazia Lifeline Dolomitas e Carlo Spagnoli per l'urriere del FAT. Demol Prunvere per il reparto di cardiologia, che crescerà, sempre di più dovranno la più nuova tecnologia per poter operare i pazienti del Zimbabwe. Il progetto, portato in atto con il contributo della provincia di Trent, chiuscirà in atto e cederà al volontariato. Già di viaggio è il secondo gruppo dal Trentino, per dire il ruotaggio del reparto col dottor Domenico Catanzariti e cattro infermiera di Rorei. In c'è qui, perché i colleghi da Trent, ieri sono a Cino e si tolano la ferie e si fanno il viaggio. Si vuole semplicemente ad arrivare a avere lo stesso servizio che noi trentini possiamo ricevere in situazioni di emergenza cardiaca, rapidamente e in maniera efficace per prevenire soprattutto la morte ma anche i danni permanenti del cuore. Il reparto della diagnostica dei Cinoi è un diverso che Carlo Spagnoli, sempre accompagnato sia l'urier da Lifeline Dolomitas, l'ha fatto per migliorare la situazione di questo paese africano. L'impegno che l'associazione fa scena seguita a portare in ante, ma non del Zimbabwe ha manco i container di magnadiva, medesine, masserie e attrezzature vignano. Pico Iveres, del scheckel della cardiologia, progetto da più di più che 70.000 euro, una goccia del merco che si dice, ma una goccia che con pazienza e costanza per cercare la crepa. Pico Iveres, del scheckel della cardiologia, progetto da più che 70.000 euro,